Sono i giorni caldissimi delle liste, ormai chiuse, e delle candidature, confermate o saltate Si dibatte anche dei leader di partito che scelgono di correre come capolista, una decisione presa da Giorgia Meloni, Ellis Klenne ed Antonio Tajani In studio da Floris ecco Francesco Storace, Alessandro Di Battista ed Elisabetta Piccolotti, moglie del leader di sinistra italiana Nicola Fratoianni e a sua volta deputata E dopo una breve digressione sui leader che si candidano oppure no, ecco la zampata di Storace, si candida solo la Salis tra i leader europei Il riferimento è ovviamente alla candidatura di Ilaria Salis con Alleanza Verdi-Sinistra, una candidatura che ha l'obiettivo di eleggerla per concederle l'immunità e dunque la possibilità di uscire dal carcere ingherese Dopo la stoccata di Storace, interviene Floris, ma la sua candidatura ha un valore di battaglia contro lo Stato di non diritto ingherese Chi la prende malissimo, però, è ovviamente la Piccolotti, provoca solo perché spera di buttarla in cacciara Estorace, sornione, sorride Estorace, sornione, sorride, 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 sornione, sorride,